Mauro Bergamasco, terza linea della Nazionale Italiana di Rugby al Motor Show di Bologna, che cos'è la mentalità sportiva per te? Beh, la mentalità sportiva è già una storia di vita, per noi sportivi, tutto quello che gira attorno alle nostre scelte comunque in parte da un presupposto che è legato a principi e i valori che troviamo nel nostro sport. Il nostro sport così è nella vita di tutti i giorni, quindi la mentalità sportiva si può basare su diversi principi, su quelli su cui mi baso anche per quanto riguarda l'attività in stradistica, sono ovviamente andare sempre avanti, procedere, evolvere nella propria strada, mettere sempre sotto questo avversario, quindi imporsi in qualche maniera, farsi la propria voce, essere in grado di ascoltare anche gli altri e soprattutto poi il sostegno, quindi il lavoro di gruppo, saper accettare che c'è qualcuno che può darti una mano e essere in grado di poter sostenere un compagno o un collaboratore o un amico. In che misura il rugby è superiore ad altre discipline in termini di valori etici dello sport? Da sportivo non sono più per giudicare quelle che sono le differenze tra rugby e altri sport e dal punto di vista dei valori. Credo che il valore, che il rugby, così come lo vivo io, sia una fucina, una scuola di vita perché insegna la collaborazione, l'integrazione, il fatto di accettare comunque chi può essere più o meno diverso da noi e soprattutto la collaborazione e quindi essere in grado di approfittare delle qualità e delle esperienze degli altri e possono mettere a disposizione le proprie. Un'ultima domanda, qual è il tuo esempio in termini di valori etici dello sport? Penso che lo sport possa dare un sacco di esempi. Oggi come oggi sicuramente per quanto riguarda la categoria degli sport che pratico, quindi gli sport di squadra, penso che sia assolutamente il supporto e la collaborazione. Questa è una cosa fondamentale perché soprattutto in questo riguardo al rugby, per esempio, non è il singolo che eccelle, ma è una squadra intera che vince. Grazie a Mauro Bergamasco, terza linea della Nazionale Italiana di Rugby. Grazie.